Sright Good summer Buongiorno, ciao a tutti. Sì, posizione rotta. Questo, anche questo, soprattutto questo, serve quando uno va per mare. Sì, sono un oceanografo, meglio oceanologo, se vogliamo essere un po' più precise. a me piace più e mi occupo soprattutto di oceano e clima, oceano, non oceani, perché in realtà di oceano ce n'è uno solo. L'oceano quindi è il mio campo di studio, ma anche per me tutto sommato un amico e gli amici, si sa, a volte aiutano, a volte vanno aiutati sempre, però sarebbe meglio ascoltarli. Girando il mondo, seppur colpito dal mal di mare, qualche storia l'ho sentita e oggi vorrei proporne due, perché in fondo vedete anche in questa regione che vedete nella figura, che noi chiamiamo di solito indistintamente Polinesia, già 4.000 anni fa le persone che solcavano i suoi mari con queste canoe e bilanciere avevano lo stesso problema dell'uomo moderno, conoscere la propria posizione. È importante farlo se vivi in un contesto come quello delle isole Marshall, dove 34 atolli buttati così, a caso quasi, tra le Hawaii e l'Australia, si staccano dal livello medio del mare, diciamo per 30 centimetri solo in altezza, perché appena sei a largo a pescare, un po' d'onda dalla tua canoa non ti fa vedere più nulla e quindi la tua posizione è un problema importante perché ti serve tornare a casa. Bene, voi direte, questo è un problema che tanti hanno avuto, le stelle, il sole, qualche trucchetto per orientarsi in mare, l'uomo l'ha sempre usato. Giusto? I Marshallesi no. L'unico popolo che ha usato, e usa ancora, le onde come indicatore naturale della propria posizione. E lo fanno, lo facevano, e chi è ancora capace lo fa, usando uno strumento come questo, bastoncini di navigazione delle isole Marshall. Una serie di legnetti di cocco ricurvi, piegati in un modo artigianale, all'intersezione delle conchiglie. Questo racchiude l'informazione di generazioni di abitanti delle Marshall, che hanno tradotto l'andamento delle onde di swell, quelle onde distanti, generate da un vento distante, che poi arrivano a frangere, però vicino alla tua costa. Vi sarete chiesti ogni tanto perché c'è l'onda qui, che non c'è il vento. Ecco, quell'onda è partita da distante e sta arrivando. Quella è l'onda lunga, l'onda di swell. Il Marshallese, sulla sua canoa, torna muovendo le dita su questa sorta di abaco, perché riconosce l'altezza dell'onda che colpisce la sua canoa e la frequenza. avendo memorizzato la generazione nei propri canali semicircolari, quello che è l'andamento dell'onda, muove le dita e riconosce all'incrocio cosa? La posizione del proprio atollo, perché ognuna di queste isolette respinge in un modo unico, con una musica unica e particolare, l'onda lunga che la colpisce. Meglio di un GPS. Sto disteso, avverto quello che avviene, sento cosa accade attorno a me e da questo capisco dove sono. Conosco la mia posizione, perché so leggere l'informazione del mare. Cambiamo per un attimo noi posizione questa volta e ci portiamo nella costa sud orientale dell'isola di Hawaii. Mattina presto l'oceano non è ancora lasciato salire il sole, lo trattiene all'alba eppure siamo già in tanti di fronte della scogliera di Diamond Head. Ognuno che guarda all'orizzonte convinto di saper trovare quell'increspatura sul reef, sulla barriera, che ti consente di smettere di pagaiare, di salire sulla tavola e cavalcare un'onda. Le stesse onde che arrivavano dai nostri amici della Marshall arrivano alle Hawaii. Sembra un'onda distante, un'onda dissuola che va a frangere sulla barriera. Cavalti quest'onda, una gioia per chi fa surf impagabile, è vero, effimera ma impagabile. E mentre l'onda ti si srotola sotto la tavola, non sai bene quanto grato tu dovresti essere alla curiosità di Walter Heinrich Munch, nato a Vienna, pensate, nel 1917 e tre settimane fa festeggiato per i 101 anni. Uno dei padri dell'oceanografia moderna. Quando Munch cominciò ad occuparsi delle onde lunghe, aveva da poco lasciato un lavoro in banca a New York, dove era stato spedito nel 1932 dalla famiglia, perché in Austria amava sciare e poco studiare, a dire il vero. E perché aveva un nonno banchiere, questo aiuta. Però Walter non amava molto il lavoro di banca. I suoi leones erano altri, non si trovava bene lì. Amava l'onda delle coste californiane. E cominciò da lì a studiare. Proprio in un periodo in cui un'altra onda ben più grave, ben più cupa, colpiva l'Europa proprio partendo dalla sua Austria, entrò in contatto con il mondo della marina militare americana proprio per studiare la possibilità di effettuare degli sbarchi in condizioni di onda nel mare mediterraneo o nel mare del nord. Fino a quel momento le barche utilizzate per lo sbarco erano questa sorta di grossi mattoncini Lego che avrete probabilmente visto in tanti filmati del D-Day. E queste barche con un'onda solo di un metro e mezzo d'altezza significativa però non riuscivano ad operare lo sbarco. Era però considerato da tutti una sorta di inevitabile pena, un problema. In fondo una variabile in più in quella che era una guerra sporca e lontana. No, per Munch no. Lui cominciò a studiare, questa è una riproduzione di una delle sue prime carte, la velocità del vento che vedete nell'asse di sinistra e la lunghezza per il quale il vento può soffiare e la vedete nell'asse X in basso. Più un vento è forte e più ha a disposizione un terreno libero sul quale soffiare, bene, Walter ricavò a mano, perché all'epoca i conti si facevano a mano, era inutile affidarsi ai primissimi calcolatori a matita, l'altezza dell'onda che può derivare, crescente ovviamente, più intenso il vento e più lunga la distanza e anche la direzione dell'onda che doveva avere. Quindi lo fece così bene che queste tabelline convinsero il presidente Eisenhower a spostare lo sbarco del D-Day dal 5 giugno al 6 giugno del 44, proprio per evitare delle onde che avrebbero impedito lo sbarco da parte di quelle barche fatte a forma di mattoncino Lego. Il resto è storia per noi, però rimane ancora quest'altra geniale intuizione. Prevedo oggi cosa accadrà domani, nel caso di Munch prevedo il vento di domani e con il vento di domani io ti posso fissare una rotta perché prevedo l'onda di domani. Anche questo, geniale. E queste sono le due storie, posizione e rotta, sulle quali adesso ragioniamo insieme. L'uomo moderno, l'uomo contemporaneo, noi che abbiamo oramai raggiunto e superato alcuni limiti planetari, globali, non solo per quanto riguarda gli effetti del cambiamento climatico ma anche per la perdita di biodiversità, per l'uso dei terreni, per lo sfasamento dei cicli biogeochimici, l'uomo contemporaneo riesce a fissare una posizione e ad avere una rotta. Beh, in realtà, l'abbiamo scoperto anche oggi, le cose stanno cambiando molto più velocemente di quanto pensassimo qualche anno fa. E questo non è una situazione che ci mette molto a nostro agio. Accade per le onde, sì, accade per le onde, che sono in alcuni casi non ripetibili, come lo sono state per gli abitanti delle isole Marshall, cambiano la loro frequenza, quindi non sono più memorizzabili, ma accade anche per la frequenza dei venti, per la precipitazione, per i ghiacci, per il clima di intere regioni. E questo sta avvenendo in modo molto veloce. Certo, rispetto agli abitanti delle Marshall possiamo misurare una grandissima quantità di dati. abbiamo satelliti, sensori in mare, sensori in atmosfera, ma tutta questa informazione non la riusciamo più a leggere, non riusciamo più a leggere tutta questa posta che ci arriva e la nostra posizione cambia di continuo. Ogni giorno fissiamo il valore massimo di anidride carbonica in concentrazione che abbiamo mai registrato negli ultimi 800 mila anni nell'atmosfera, dei dieci anni più caldi mai registrati finora al mondo, otto si sono verificati dopo l'anno 2000, perdiamo una concentrazione di ghiaccio tale dal Polo Nord che possiamo parlare di una massa che viene fusa ogni giorno pari a 3.000 volte il peso del Colosseo. Ogni giorno viene fuso e va come acqua dolce nell'acqua dell'oceano Atlantico. Tutto questo sta generando un mondo in parte diverso, uno degli effetti è l'inalzamento del livello del mare con il quale dovremo convivere e che sta già adesso dandoci segnali concreti per disporre una vita sulle aree costiere totalmente diversa da quelle che facevamo. Nello stesso tempo non riusciamo nemmeno a tracciare però una rotta, perché la rotta per il futuro è influenzata soprattutto, in prima istanza, dallo stile di sviluppo che noi stessi dovremo darci e anche questo ci mette in difficoltà. Quindi senza una posizione precisa e senza una rotta non riusciamo in questo momento nemmeno a fissare le priorità che dovremo avere. avanza bene, lo vedo qui. Le priorità, dicevo, certo viviamo in un mondo complesso dove piccole variazioni possono verificarsi come conseguenza in una grande differenza di rotta. Parto da una situazione leggermente diversa, arrivo in una destinazione totalmente diversa, invece. È successo con l'atmosfera. In poco più di un secolo abbiamo aumentato il livello di anidride carbonica nell'atmosfera. L'abbiamo portato dallo 0,2 per mille allo 0,4 per mille. Poca cosa, pensavamo, questione di gas rari. Invece è sufficiente per creare un mondo di un grado più caldo, non solo nell'atmosfera, ma anche nel mare. E quindi questa cosa ci sta portando verso un'altra situazione, verso un altro Leones. Cosa possiamo fare quindi in questo momento? Cosa possiamo fare, cosa possiamo imparare da queste storie di fronte ad un oceano che cambia? Riusciamo a dare il peso importante all'oceano? Sappiamo, per esempio, che l'oceano produce il 50% dell'ossigeno che respiriamo? Sappiamo che incorpora il 30% dell'anidride carbonica che emettiamo? Sappiamo che proprio all'oceano dobbiamo la stabilità del clima del pianeta? Non credo. Sappiamo che un Mediterraneo più caldo di quasi 2 gradi rispetto alla media degli ultimi 50 anni è stato il principale responsabile di quei eventi così intensi che hanno fatto strage di milioni di alberi sulle Dolomiti? No, perché di queste cose non si parla abbastanza. Cosa possiamo fare allora? Io, dal punto di vista della scienza, posso dire che cerco di lavorare per una scienza il più interconnessa possibile, dove fisica, matematica, chimica, biologia si parlino insieme, ma che includano anche le scienze sociali, l'economia, la filosofia. Come comunicatore posso aggiungere che la scienza dovrebbe essere comunicata, appunto, in tanti modi efficaci, non solo all'interno dello steccato di uno scienziato, ma anche in contesti, per esempio, come questo. Perché premo su questi due argomenti? Perché abbiamo fretta, dobbiamo velocemente diventare consapevoli, responsabili di quello che accade. La stessa consapevolezza, in fondo, che avevano proprio i pescatori delle isole Marshall. E quindi direi che nel nostro dubbio, nella possibilità o nell'impossibilità in questo momento di tracciare una rotta, cosa possiamo fare? Possiamo, forse, cercare di combinare proprio i due approcci che ho descritto. Da una parte, le tabelline di Munch, la scienza, la comprensione delle dinamiche dell'atmosfera, del mare, fatta con rigore in metodo scientifico. Dall'altra, i bastoncini, la capacità di qualcuno di ascoltare l'amico che non sta bene, di ascoltarlo come facevano gli abitanti delle isole Marshall. Mettendo insieme queste due cose, forse riusciamo a tracciare una rotta per il futuro. Perché, vedete, gli abitanti delle isole Marshall andavano a mare dopo che avevano imparato ad utilizzare i loro bastoncini. Prima studiavano, imparavano e poi utilizzavano. Da questo dipendeva la loro sopravvivenza, la capacità di tornare a casa, di evitare un uragano, di tornare alla capanna. Con questa modalità evitavano di far male a loro stessi e agli altri. Forse questo potremmo cercarlo di fare anche noi. Studiamo adesso, informiamoci, approfondiamo gli argomenti, diamo il peso che merita al ruolo del nostro Oceano, che è il miglior alleato nel contrasto dei cambiamenti climatici. Facciamolo subito per evitare di farci troppo male. Aiuteremo senz'altro il nostro amico Oceano, ma soprattutto consentiremo a lui di continuare ad aiutare noi. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.